Buongiorno Allora, oggi voglio parlare della teoria della mente è una cosa che da quando ho scoperto che sono Asperger nei vari articoli, vari blog o comunque posti dove si parla dell'Asperger usciva fuori ed è la teoria della mente Allora, sicuramente ne avete sentito parlare anche voi perché è quella cosa che te la buttano dentro dappertutto e quindi sei costretto a un certo punto a cercare di capire di cosa si tratta anche perché inizialmente quando cercavo di comprendere non era molto ben chiaro penso che tutti un po' entravano nella confusione dell'empatia ovvero dicono questa teoria della mente che è questa capacità di capire l'altra persona come sta e questo potrebbe essere scambiato effettivamente per empatia in modo ignorante inizialmente come ho fatto io in realtà non si tratta di empatia e praticamente la differenza con l'empatia che invece è molto sviluppata nelle persone di autismo perlomeno l'autismo a livello 1 gli altri autismi non lo so perché faccio già fatica a capire l'autismo di livello 1 non mi metto pure a studiare gli altri tipi di autismi e quindi praticamente esce sempre fuori questa teoria della mente ed è questa capacità di percepire nell'altra persona come sta quindi facendogli domande intuendo dai suoi modi di fare come si comporta il suo stato d'animo che appunto è diverso dall'empatia che invece l'empatia è quella situazione che oramai avete un'esperienza con la persona quindi sapete con chi state avendo a che fare facciamo ad esempio il caso tra partner che comunque hanno un buon rapporto e quindi c'è un dare avere e appunto in questo caso si riesce a percepire con l'altro e anche con l'aiuto del dialogo e delle azioni dell'altro come sta e quindi questa capacità di entrare sempre di più in sintonia e questa è l'empatia e viene detto appunto che per quanto riguarda l'empatia non ci sono problematiche le problematiche iniziano nel momento in cui si parla invece di teoria della mente e quindi io sinceramente mi sono fatta un po' un'idea su questa teoria della mente e come al solito quando entro nel dettaglio nel dettaglio cercare di capire una cosa in questo caso come in altri casi non è mio volere ma è una costrizione perché ci sono questi termini tecnici che a un certo punto una persona si deve interessare perché in teoria sarebbe anche una sua condizione quindi vuoi o non vuoi non per interesse mio personale a certe tematiche io mi devo avvicinare a cercare di capire almeno di cosa si tratta e io sinceramente non sono d'accordo con questa teoria della mente come al solito secondo me si tratta di uno di quei nomi tecnici che vengono dati per mettere l'etichetta ad un comportamento però anche qua sì se vogliamo questo qua è il mio parere attenzione è solamente un mio parere personale parere e cioè allora se vogliamo dire la cosa in modo un po' generalizzato giusto per comprendere un po' a grandi linee super giù e molto in superficie la persona Asperger ok però deve essere detta questa cosa che è una cosa un po' detta così superficialmente giusto per appunto distinguere velocemente certe situazioni però se dobbiamo andare dentro al dettaglio io non sono per niente d'accordo perché innanzitutto io cioè nel senso io praticamente con questa teoria della mente dovrei mettermi nella testa che io non sono capace a capire gli stati d'animo degli altri quando loro stanno zitti e hanno dei modi di fare che non sono chiari grazie al cazzo mi viene da dire cioè non è che sono un mago e tra l'altro viene detto anche in psicologia senza toccare autismo e non autismo quindi vi parlo di un concetto generale della psicologia viene detto che comunque è difficile interpretare cioè in generale è comunque difficile interpretare gli stati d'animo se una persona non parla come fai? infatti se siete amati della psicologia vi sarete trovati ad avere a che fare con quelle cose che vengono dette del tipo che non ci possiamo aspettare che le persone ci capiscano se non parliamo eccetera eccetera quindi insomma inoltre non è vero che non sono capace di non capire di capire le persone perché a me basta farti due o tre domande e già ti ho mezzo inquadrato quindi questa cosa pure a mio parere non è vera diciamo che sono io che a un certo punto mi stoppo ad interessarmi a farti quelle due o tre domande nel momento in cui vedo che dall'altra parte non c'è interessamento ma questo grazie al cavolo mi sembra la base di ogni rapporto poi ognuno ha la sua vita cioè io non posso interrompere la mia vita e cercare di comprendere l'altra persona cosa gli sta succedendo certo se io tutto ad un tratto la vedo con una gamba mozzata e giustamente la mia vita la stoppo se è una persona importante nella mia vita la mia vita la stoppo e cerco di capire cosa è successo però ovviamente sono casi limite quindi secondo me è una cosa generale e infatti in psicologia si dice anche questa cosa qua che comunque i rapporti sono dare e avere appunto ripeto senza entrare nel tecnicismo dell'autismo e non autismo in generale viene detto questo in modo universale quindi io non mi sentirei molto a disagio se uno mi punta il dito contro e mi dice la teoria della mente la teoria della mente meno male che non ho mai incontrato nessuno che si comporta in questo modo altrimenti chiamerei immediatamente qualcuno per farlo rinchiudere velocemente comunque bando alle ciance è anche vero che io questa cosa l'ho chiesta alla mia psicologa perché gli ho detto ma per me è normale fare così se uno non parla e non comunica secondo me è normale fare così tutti siamo così e lei mi ha detto no mi ha detto le persone neurotipiche hanno più hanno diciamo di più la capacità di entrare in sintonia anche senza che l'altro non dice niente è anche vero che però hanno più capacità di portare avanti proprio quei rapporti che in realtà sarebbero da terminare e poi infatti dopo si vedono le conseguenze di mandare avanti dei rapporti in questo modo quindi effettivamente ci sarà sicuramente una una maggior concentrazione di persone autistiche che appunto non hanno la capacità di fare questa cosa cioè nel senso che comunque è più comune nelle persone neurotipiche essere capaci appunto di interpretare però ascolta un attimo io voglio stoppare qua un attimo il discorso a me non interessa cioè il punto è questo perché qua si parla della non capacità secondo me invece dovrebbe essere un attimo rivista sta cosa perché non è la questione della non capacità è la questione che io non ho voglia cioè non ho voglia e non ho interesse interesse a interagire con qualcosa o qualcuno che non ha intenzione di interagire con me mi sembra una cosa abbastanza normale poi ripeto se si tratta di situazioni al limite nel senso appunto che comunque bisogna per forza cercare di capire cercare di però appunto situazioni al limite in cui magari la persona appunto non sta bene o cose di questo tipo è anche probabile che io possa anche stoppare la mia vita e cercare di comprendere cosa ha questa persona anche se non parla però in linea generale io non ho interesse di parlare con una persona cioè non so se avete capito per me non è una questione di capacità o non capacità è la questione di non avere interesse proprio cioè io parlo così perché io ovviamente i rapporti buoni li ho avuti in passato non è che sono sempre stata una sociale che odia tutti e tutto io ho avuto anche delle importanti relazioni nella mia vita ed era un dare e avere e nel momento in cui mi si dava io davo è ovvio che nel momento in cui la relazione vuoi o non vuoi prende una piega diversa perché perché comunque quella relazione alla fine termina cioè a me spiace ammettere questa cosa forse per qualcuno potrà essere una catastrofe e cadrà dal pero ma le relazioni in teoria terminano pure cioè se la relazione termina perché diciamo tra virgolette ha fatto il suo percorso quindi in realtà è una relazione che non serve più o che comunque sono arrivate delle situazioni in cui le due persone per una cosa o per l'altra devono dividersi è arrivato il momento di dividersi cioè non è che bisogna tirare fuori la teoria della mente cioè se tu non mi dai più io ci posso anche provare inizialmente e ci soffrirò anche perché qua fanno passare pure le persone per apatiche e per io ho anche sofferto molto per relazioni terminate e ci ho anche provato a interagire però se poi dall'altra parte si chiude il muro è ovvio che chiuderò pure io il muro e se dall'altra parte dopo che ho chiuso il muro non si riapre e non c'è un tentativo di riaprirlo io non lo aprirò più quel muro ma mi sembra c'è mi sembra un concetto abbastanza semplice quindi non so non mi sembra mi sembra che sia mi sembra un discorso che sia un po' troppo generalizzato e troppo ad etichettare un determinato comportamento che a mio parere poi se guardiamo nella realtà e nella quotidianità di come vanno le cose non è proprio come vogliono far intendere questo è il mio pensiero fatemi sapere cosa ne pensate e è tutto qua è ovvio è ovvio però ragazzi che se non parlate io non proverò a interagire di nuovo con voi eh attenzione sono un euro diversa quando sarà quando sarà il primo di ogni mese alle 8 di sera e chi ci sarà beh spero le persone a cui è interessante questo argomento e di che parlerete tematica ADHD e Asperger ma tu non sei un'esperta non sei una psicologa lo so però credo fortemente nella condivisione delle proprie esperienze personali e loro verranno loro verranno no no loro non sono invitati ciao